Non riusciamo ad avere quell'apporto idrico necessario per in questo momento irrigare i campi per quanto riguarda la parte del radicchio, delle culture autunne-invernine e delle orticole e per quanto riguarda poi la piantumazione dei cereali, in particolare del frumento. La siccità che ha colpito anche il mese di ottobre preoccupa gli agricoltori padovani. Agosto e settembre erano tornati in media del periodo per le precipitazioni. Ad ottobre però sono state praticamente nulle. Un problema per le semine autunnali ed invernali. Problema che riguarda però anche gli allevatori. La situazione zootecnica è quella più difficile in questo momento perché abbiamo dei costi come tutti i comparti esorbitanti sotto il profilo energetico. A questi si devono poi collegare purtroppo l'inflazione che sta galloppando per cui la riduzione dei consumi e quindi da parte dell'azienda agricola e delle vendite e in questo momento particolare il fatto che non sia possibile procedere con le semine diventa ancora più preoccupante per quanto riguarda il futuro. L'appello alla politica è su due fronti. Quindi è necessario agire, agire subito, prevedere elementi di emergenza assoluta di contributo per le aziende agricole ma anche impostare dei ragionamenti a medio termine come possono essere quello degli invasi per quanto riguarda la trattenuta dell'acqua e il rilascio nei momenti di necessità come in questo momento.